Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio farvi vedere l'altro mio programma 10 all'8 vincente Twin che ho digitato l'ultima estrazione per la penultima, cioè la penultima per l'ultima è uscito 3 numeri vincenti su 6, so che tanti di voi vorranno vincere 6 numeri su 6, capisco però è sempre un buon risultato, stessa cosa comunque ha dato l'esito la volta precedente sempre 3 numeri su 6, solo che non avevo fatto il video, mi sono dimenticato e comunque niente, volevo farvi vedere i numeri, è uscito allora il 73 allora questa è per la prossima, infatti allora il 73 il 38 niente, il 61 uscito, il 56 niente, il 74 preso, il 49 niente, il 73, il 74 e il 61 comunque è sempre un buon risultato, il numero oro niente stavolta però comunque sempre un buon esito positivo e volevo farvi vedere questa cosa, vi lascio il link sotto il programma per chi volesse acquistarlo e niente, ci sentiamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi sempre di più mi fa piacere, cliccate sul like se volete e ci sentiamo al prossimo video per adesso è tutto, ciao a tutti, grazie, ciao